Grazie 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 a tutti i collaboratori, i volontari Grazie a Luciano, a Fabio, a Marco Grazie A tutti i partecipanti in questo pomeriggio E al centro di uno Io intanto parlo Come si chiama il suo presidente? Come si chiama il suo presidente? E poi vogliamo salutare la famiglia Russo La famiglia Brillanti E ancora tutte le persone che hanno partecipato E l'assessore Rodolfo Mastroiani Ma c'è un po' di confusione Ma la mia voce si sente Tutti i volontari, tutti voi Ma tutte le squadre e tutti i calciatori Perché come ogni anno Hanno saputo dare vita ad un grande torneo Ad un grande Memorial Grazie a tutti e a Dio